musica 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 un testo breve dai dai ereditate 100 da un lontano zio bene dai madonna cioè io prendo soldi mi da 25 miseri lui prende 100 ovviamente no ehi big money rischiamo vai tocca a te 8 1 2 3 5 6 transito amico diventa fino a quando nessuno tiene almeno tutte quanti da un territorio la situazione rimarrà abbastanza esatto il casino 3 4 e 5 piazza dante mi sa che se non è mia 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 devi pagare 16 wow e qui ci dissanguiamo ecco ecco mega fallimento domani deve vendere la ross royce niente a posto 4 ok allora tocca a me giusto? qual è la differenza tra probabilità e imprevisti come dicevamo prima credo che il fatto degli imprevisti è che è più facile che siano noiosi diciamo che siano brutti quando ho tirato 7 1 2 3 c'hai un 5 qui sotto e vabbè allora dammi un 5 2 quindi questi me li riprendo ok intanto ho fatto 7 quindi si vai 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 1 2 3 5 6 7 è tuo? Marco Polo? no è di Amico di Verde? forse è di Amico di Verde si no è tuo è tuo questo qui allora e quanto ti devo? no Largo Colombo sei te Montebianca è tuo sei nel tuo sei nel tuo io e lui abbiamo gli altri due tocca al Libs quindi tocca a me ma perché uno solo? dai su non so perché mancano nuovi territori uno di quali è il Parco della Vittoria eh eh si ancora il Parco della Vittoria non è di nessuno 1 2 3 4 e poi si sa è quello dopo la stazione via Verdi quanto le devo? 14 e qui le lagrime e sanguine 15 12 13 4 fai poi se ce la fai se no te le passo io grande la fai? vai perfetto grande fai Amico di Verde amico di Verde imprevisti uguale vieni condannato per vilipendio da Bolsonaro no stai dal posto a tu 1 2 via che Marco Polo è mia 18 mi devi ridare di più di quello che ti ho dato io prima eh eh dico... due guarda È come come me prima praticamente 1 e 2 Nooo ne fai fatto finire quelli da 1 maledetto e puoi scambrire me mi dimentico sempre che posso la troppa sì noär, tanto per ora non mi serve però sì 10 doppie yeah e ora inizia a girare cina diverte questa non è di nessuno la puoi comprare costa 300 via roma no no torna indietro libri torna indietro fai fai cosa devo fare no ancora ok ok è stato orribile infatti non ho capito cosa è successo erano sparite le carte in mano erano andato erano andato a prendere avevo fatto search e tutti i nostri territori se ne è risucchia allora search come si chiama via roma via roma costa detto il 300 è verde è stato terribile mancano otto territori ragazzi è ancora lunga e non solo aspetta aspetta mancano otto territori e sono tutti sono tutti unici tranne un azzurro quindi da questo momento in poi a parte uno i prossimi acquisti saranno tutti da monopolio quindi da acquistare casa è pazzesco perché infatti se vedi le proprietà che per esempio abbiamo io e anche amico diverte le abbiamo tutte diverse ogni proprietà è di un colore va bene allora questi 100 sono miei giusto ok ok tocca a me sì hai tirato due volte tu giusto sì sì perché prima ha pagato l'affitto a me avevo fatto doppio io ah no è vero avevi fatto due volte doppio allora fai te hai fatto doppio e poi eri arrivato di qua e devi ritirare un'ultima luogra sì 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 ehi vado qua di doppio oh perfetto l'unica stazione che era rimasta maledizione 200 search stazione est eccola qua ebbene adesso ci siamo maledizione ancora nessun monopolio però ancora nessun monopolio nessun monopolio tocca a me a stazione vai sì te l'ho data è lì è lì sotto è appoggiata lì sul cinque cinquau uno due eh vai qui quattro cinque e di chi è? a piazza giulio cesare che è mia amico diverte no è mia è mia 24 eh beh che dire 24 allora 20 e 10 ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.